L'obiettivo è fin troppo chiaro, evitare che sia l'ultima domenica di calcio di questa stagione. Il Bicelle vuole fortemente la finale dei play-off nazionali di eccellenza, vuole continuare a cullare l'idea di giocare il prossimo campionato di Serie D. Crocevia, fondamentale per le ambizioni di Ederazzurro Stellati però, è la semifinale di ritorno contro la Vigor Lamezia domani pomeriggio al Gustavo Ventura, con fischio d'inizio previsto alle ore 16, si riparte dal pilotecnico 3-3 dell'andata in Calabria. Siamo l'ultima bugliese ancora in corsa per qualcosa e quindi sentiamo questa responsabilità e nella presentazione di questi play-off molto spesso si è parlato della vecchia regola europea, del gol che vale doppio fuori casa, noi siamo riusciti a farne tre. Bene, la mia sensazione è come se domenica affrontiamo una semifinale di Champions League e su questo vorrei che tutta Bicelle sentisse questa partita come una semifinale di Champions League perché veramente ci stiamo giocando tanto. L'obiettivo è alla portata però abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Chi vince accede alla finale play-off contro chi riuscirà a spuntarla nell'altra semifinale tra i Lucani del San Cataldo e i Campani del Costa d'Amalfi. Bicelli ha l'atto conclusivo per la promozione anche in caso di pareggio per 0-0, 1-1 e 2-2. Difficile, considerando l'importanza della posta in palio, immaginare una partita con tante reti come quella dell'andata. Probabilmente sì perché comunque anche loro sanno che prendere un gol per loro significherebbe poi farne due e quindi sicuramente sarà una partita un po' più bloccata rispetto a quella dell'andata. Però si è visto che entrambe le squadre hanno valori importanti in attacco. Poi noi anche per quel reparto torneremo al completo perché Pignataro ha scontato la sua squalifica quindi avremo un Pignataro in più e insomma noi ci auguriamo veramente di vivere una bella giornata di sport. Sappiamo anche che dalla Mezzia seguiranno in parecchi e quindi vorrei vedere un Gustavo Ventura gremito in ogni ordine di posto e poi alla fine speriamo che abbiamo il pass per andarci a giocare la finale e poi per la D. C'è tempo sino a domani pomeriggio per acquistare il tagliano d'ingresso. La biglietteria del Ventura sarà aperta dalle 14.30 sino all'inizio della partita. Biceglie è chiamata a spingere la squadra della propria città sino alla finale e l'unica via percorribile per continuare ad inseguire l'obiettivo promozione.